Vai su Sport Salute 2.1, sia fisico, mentale e sociale. Condividi i tuoi post, basta una goccia di sport, più sport, più vita. Si ricorda tutti i presidenti dello stadio di sedersi sul nuovo posto assegnato, di mantenere la distanza di almeno un metro. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.